Ciao ciao! Ciao! No, ma cosa dico? Guardate che posterone! Eccolo qua! Eccolo qua, il poster di... No, Puzzi! Puzzi! Ciao bellissimi ragazzi! E oggi facciamo macchine Tornado! Sono di sbabama, abbiamo il poster, abbiamo... Tocchi! Mini booklet! Questo è il poster! Ha fatto vedere papà! Questi sono i mini book! E adesso, prima le sfoglie! Le guardiamo insieme! E' una macchetta un po' che era una pitta! Guarda cosa c'è! Uh! Guardate ragazzi! Ci sono i dominatori dei mari! Che io li ho già fatti! Eh! Però mi manca lo squalo balena! Eh! Dov'è? Sto qui lo squalo balena! Ci sono dei giochi! Tornado! Veloci come il vento! Soffia nel turbo e vinci le sfide! Siete pronti ragazzi? Sì! Andi faccelo! Non vi sento! Sì! 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 Siete pronti? Siete sicuri? Sì! Sì! E allora! Fate vedere il pacchetto! Sì! Io apro questa! Io apro questa! Io apro questa! Io apro questa! Sono di Sbavam! Le trovate in edicola e costano? 3,50 euro! Wow! Guardate! Una nera! Scoffiala! Famela vedere! Appoggiala qui! Ma che possiamo vedere? Si chiama... DJ! Provala dai! Metti il turbo! Luca io questa è nostra! Allora mettiamo così... Nicola ha trovato quella rossa! Guardate! Funziona così! Metti il turbo Nicola! Metti il turbo Nicola! Metti il turbo Nicola! Ma! 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 Perché devi solo tenere da qui! No! Non! Ok! Io apro la seconda bustina! Seconda bustina! Seconda bustina! Azzurra! Si chiama? Tornado! Si chiama Tornado! Funziona sempre così Mettetele tutte qua Fate la scuderia Aspetta aspetta Non sappiamo come si chiamava quella rossa Allora quella rossa si chiama Vampire Quella blu tornato Quella nera e verde Tiger Apriamo Ho trovato questa Blu Ho trovato la macchina gialla Che funziona sempre così È gialla Si chiama Dazzling Dazzling Che hai trovato Un'altra gialla Doppione Quella si chiama Darling Si Si chiama Dazzling Dazzling Si chiama Dominator Dominator Questa si chiama Dominator Ed è un doppione Un doppione? No 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 Non è un doppione Mi sembra No Dominator Dominator Non è un doppione Perché qui è giallo Super Dominator Dominator Vediamo Tutta la scuderia Delle macchinine E ci ho Guardate Questo si chiama Power Blu Si chiama Power Blu Qual è la Power Blu? Quella Ah quella di Niki Poi c'è Dazzling Un'altra Poi c'è Che veloce E' quella di Niki Uh è muova E' muova Si chiama Flash Flash Veloce Come Flash Flash Niki ricordati questi booklet Me li devi dare Che io le ho Oh un'altra notte E allora E' un doppione Si chiama Dominator E l'abbiamo già trovato Wow Papa no La presa Si chiama Flash Un'altra Flash Un'altra Flash Papà prenderla Presa Prepa questa Questo è un doppione Flash Si Io apro l'ultima postina Aspetta Ok Doppione No aspetta Non è il doppione Andiamo a posto questa Non è il doppione Io ho trovato il doppione Lanci giù la scatola Si chiama Quella di lì Si chiama Pan Pan Panter 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 Anche la mia No aspetta Spera tanto che Ricordatevi Iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale ciao ciao un ringraziamento a Sbabon per aver fornito 12 Tornado mi piacciono ciao 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 e la città no 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 no